Nuovo appuntamento con le visite guidate all'ex ospedale psichiatrico di Maggiano. Un percorso alla scoperta di uno dei luoghi di riferimento per la cura delle malattie mentali in Toscana e in Italia, oltre che di un bene architettonico di inestimabile valore storico, il complesso antico risale al 1200, culturale e soprattutto umano che rischia di andare irrimediabilmente perduto. Il passare del tempo, le intemperie e le alterne vicende che hanno interessato la struttura dalla sua definitiva chiusura nel 1999 ad oggi ne consentono l'accesso in sicurezza a meno di un terzo della sua superficie. Tanto basta però per avvicinarsi al cuore di questo piccolo mondo a parte, che nei suoi periodi di massima ricettività ha ospitato fino a 1400 pazienti, oltre a medici, infermieri e personale. Tre chiostri, quello del pozzo e i due della divisione maschile e femminile, su cui si aprono le stanze destinate alle terapie, i bagni, le camerate, le enormi cucine e il refettorio, e poi ancora gli ambienti che conservano volumi e strumentazione medico-scientifica, i pochi effetti personali e i dipinti degli ospiti, tra autoritratti e disegni dedicati al Natale. Sala dopo sala si offre ai visitatori uno spaccato di quella che doveva essere la vita all'interno dell'ex manicomio, un posto da cui guardare all'esterno attraverso il filtro di inferriate protezioni. Certamente un viaggio nella storia della psichiatria, di cui il medico e scrittore Mario Tobino, che a Maggiano lavorò a lungo, è stato indiscusso protagonista. Lo zio era un personaggio molto particolare, affascinante, però con noi nipoti, noi siamo sei nipoti, che siamo eredi tutti quanti, lui ci ha nominato eredi del suo patrimonio culturale, non parlava mai delle problematiche che qui viveva a Maggiano. Isabella instancabilmente tiene viva la memoria dello zio e dell'ospedale. Le visite e gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Mario Tobino sono finalizzati proprio al recupero del complesso e del suo patrimonio.